Non so se è sufficiente, noi facciamo quello che fanno tante volte i semplici cittadini, siamo venuti a conoscenza attraverso un'inchiesta dell'Espresso, che tutti ormai hanno visto i fatti, le questioni che noi paiono, quantomeno opache, un po' impetanti, attorno a un'opera sulla quale il nostro giudizio è noto e per questo un assoluto rispetto per le differenti funzioni. Siamo qui, ovvio, alla cultura di Lecce, presenteremo un esposto per chiedere se la magistratura, nella sua ovvia e assoluta autonomia, ritenga che sulla baglia di questa impiazza giornalistica possano emergere eventuali profili su cui il lavoro della magistratura possa avere una utilità. Naturalmente, ripeto, ognuno fa il suo mestiere, noi facciamo quello dei parlamentari, sono qui con la collega Serena Pellegrino, con il senatore Massimo Cervelli, insieme, insieme facciamo quello che ci pare essere un pezzo del nostro dovere, semplicemente chiede se non si valuti la necessità, sulla base di questi elementi, di sviluppare le proprietà che sono lavorate, naturalmente la magistratura farà le sue regolazioni.